Durante gli ultimi due anni e mezzo abbiamo visto tante cose, soprattutto questa prima parte era condizionata dalla pandemia e qui abbiamo visto momenti di grande coesione sociale, per esempio anche quando ci sono state le calamità naturali, dove non solo il volontariato ha funzionato alla perfezione, ma c'è anche stato questo alto senso civico, le persone che hanno aiutato il proprio vicino e questo l'abbiamo visto anche per quanto riguarda la pandemia. I testi massa che abbiamo fatto, c'è stata una grandissima partecipazione, anche proprio questa coesione sociale che è importante. Poi purtroppo viviamo anche attualmente delle situazioni dove c'è una grande divisione nella società, c'è chi non crede più a quello che dicono le istituzioni, manca la fiducia spesso e qui bisogna riconquistare questa fiducia, recuperare questa coesione sociale, sarà l'unico modo per poter affrontare le grandi sfide. Io credo che sia possibile, grazie alla nostra autonomia possiamo fare tante cose, però ovviamente il fondamento necessario è quello diciamo di volerle fare insieme. Noi non possiamo dare ai nostri figli la prospettiva che purtroppo sono sottunati e fra cento anni ci sarà il deserto. Noi dobbiamo rimboccarci le maniche e combattere questo fenomeno che è il cambio climatico. Noi come Alto Alessio non potremo salvare la terra, però possiamo dare il nostro contributo, anzi noi potremo far essere all'avanguardia di uno sviluppo sostenibile facendo diventare la sostenibilità parte del nostro marchio. E così avremo anche il vantaggio di essere molto più competitivi perché un marchio che abbina al proprio prodotto il tema della sostenibilità sarà molto più richiesto in futuro. Grazie.